segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te adesso è arrivato fitto che noi in puglia conosciamo benissimo vent'anni fa gli abbiamo chiesto diciamo gentilmente di lasciarci lavorare eravamo l'ultima regione italiana nella capacità di spesa dei fondi europei però sinceramente non lo faccio per cattiveria perché le elezioni le ho già vinte con fitto sono solo dicendo agli italiani guardate che noi l'abbiamo già vista sta storia fitto accumulò tutti i fondi europei non li riuscì a spendere in puglia provocò una catastrofe e la ragione per la quale i pugliesi gli hanno detto vai a fare il ministro va bene risultato per il 2026 noi non faremo nulla di ciò che dovremmo fare allora io dico che se fitto anziché pensare di bloccare fondi europei fsc cioè i fondi nazionali per il sud e pnrr a centrarli tutti sulla presidenza del consiglio semplicemente convocasse le regioni e chiedesse alle regioni di dare una mano alla spesa ci sarebbe una possibilità in più mi pare che ti chiede normalmente facciamo noi comunque facciamo qualche cosa di meglio che quello che si accinge a fare fitto nel frattempo